Fermato per un controllo, spuntano droga e una pistola e viene arrestato dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 22enne a retino, CL e le sue iniziali. Fermato lo scorso fine settimana durante uno dei servizi mirati alla repressione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti. A fermarlo sono stati gli agenti della squadra mobile guidati da Luca Penta. Il ragazzo era stato fermato a bordo della sua auto per un normale controllo di polizia, ma era davvero troppo nervoso e così gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Dopo un'attenta perquisizione sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del 22enne, dove è stata ritrovata nella camera da letto una pistola semi-automatica calibro 7.65 con matricola a brasa, verosimilmente tramite l'utilizzo di un trapano e nove proiettili. Il ragazzo, con alcuni precedenti di polizia, è stato quindi arrestato per detenzione di arma clandestina.